Io non ce l'ho cittadinanza ancora, sono vivo 15 anni in Italia e lavoro sempre, non ha mai avuto un giorno malattia né un giorno disoccupazione questa città, io non posso votare. È Tito Anisusaman, presidente dell'associazione Bangladesh Arezzo, assieme ai suoi collaboratori, a portare avanti per primo in Toscana e forse anche in Italia, la campagna di sensibilizzazione Qui Vivo, Qui Voto. Diritto di voto dunque ai cittadini non comunitari, in questo caso residenti in Italia da almeno 5 anni. La popolazione straniera residente in tutta la provincia aretina sfiora il 12%, nel comune capoluogo che sta per scegliere il suo nuovo sindaco, circa la metà degli stranieri residenti potrebbero, secondo queste regole, accedere al voto, ma non ci sono in questo senso stime ufficiali. Ecco perché l'iniziativa Qui Vivo, Qui Voto è anche un modo per capire quanto effettivamente la popolazione straniera è informata o interessata a questo fondamentale aspetto della vita democratica di un paese. È un modo originale anche per provocare un dibattito sul tema dell'immigrazione. Se dopo 5 anni lui inizia a partecipare, vita politica, quando arriva quel benedetto cittadinanza, penso che quella persona è ben integrata in questa città. E lui lo sa, qual è la Costituzione italiana. Possono votare quando chi fanno primarie? Questa volta è stato più di mille persone che sono andate a votare. Io mi vergognavo a dire a qualcuno andate a votare. Quale base? Perciò fra i candidati sono andati dai stranieri e convinto a loro a quel punto quelle mille persone sono andate a votare. Questa è una dramma che tutti in Italia abbiamo visto. E' anche come dire, a un certo punto si richiede la domanda a questo. Ma come mai? Perché? Quando ce l'ha i primarie possono votare se interessate tutti, andate a fare promessa. Invece, realmente quelle persone che vivono, lavorano, pagano le tasse e non possono votare. Per questa campagna è già partita una raccolta firme che proseguirà a tempo permettendo nei due sabato antecedenti il voto. Quindi il 23 e il 30 di maggio, sempre al mercato settimanale di Arezzo. Ed il 31 di maggio, con ogni probabilità in Piazza San Jacopo ad Arezzo, la simulazione del voto vero e proprio con una scheda elettorale, con la quale i cittadini non comunitari sceglieranno simbolicamente il sindaco di Arezzo. Ci sono delle schede elettorali che non sono assolutamente in alcun modo sostituibili a quelle reali, in cui loro però potranno mettere la croce sul candidato che ritengono che possa rappresentarli. La campagna è apartitica, noi non stiamo sostenendo né facendo propaganda per nessuna parte che sta concorrendo per queste elezioni. Questa è una campagna che serve semplicemente a informare tutta la cittadinanza residente ad Arezzo e speriamo nel futuro anche tutta l'Italia sulla condizione delle persone che sono parte della comunità ma che sono escluse da un diritto primario di una democrazia in quanto tale. Grazie